E buon saluto a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su Belgron Channel Oggi siamo qui con il quarto episodio, il terzo è saltato perché in realtà era un po' noioso Non c'era nulla di speciale ma in questo dovranno abbattere questa torre E per farlo utilizzeremo una macchina volante Ma prima, intro! Grazie Bene, allora ci siamo al primo test Beh, già che vola è un grande traguardo Adesso, sono stato qua più di 40 minuti a fare questo affare, che svolazza No dai, prendi quota e guardalo, guardalo, contro la catena Noi dobbiamo rincominciare Ok, correga aumentando un po' la potenza dei palloni aerostatici Parto Attenzione No, guarda, il cannone Aspetta, aspetta che qua lo rimpallo io la situazione Dai, dai che ci siamo Più o meno, eh, voglio dire Ci stiamo andando e Guarda, si, si, esplodi Sì, 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 sì Sì, lo so ragazzi, è un gameplay un po' corto Però anche in questi periodi festivi Ognuno ha un po' da fare così Perché un gameplay di due minuti ci calza veramente bene Ciao e buone feste